Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, protagonista dell'appuntamento alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo. Si tratta di una delle iniziative di avvicinamento alla Festival La Città dei Lettori. Una lettura affidata a Maurizio Lombardi che ha dato voce alle vicende impetuose di Tommaso Puzzilli, giovane e sottoproletario di Borgata tra furti, bravate e prostituzione, una storia di redenzione ed impossibile riscatto sociale in un mondo senza uscita nell'Italia postbellica. Tommaso, Lello e Zugabbo e gli altri ragazzini che abitavano il villaggetto di Baracche sulla via dei Monti di Petralata. Come sempre dopo mangiato arrivavano davanti alla scuola meno una mezz'oretta prima. Lì intorno c'erano già però pure altri pipelletti della Borgata che giocavano sulla fanga col coltellino. Tommaso, Lello e gli altri si misero a guardarli accucciandosi intorno con le cartelle che strusciavano sulla fanga, poi vennero due o tre con una palla e gli altri buttarono le cartelle sopra a un montarozzetto e corsero dietro alla scuola. La spianata, che era la piazza centrale della Borgata. Lello, uno che abitava... È un progetto per avvicinare le persone alla lettura. La volontà è quella di avere più lettori possibili. In Italia il calo, lo sappiamo, è enorme. Noi ci avviciniamo alle persone con appuntamenti, un festival aperitivi letterari in cui o regaliamo libri o presentiamo degli approfondimenti importanti, quelli che sono i gusti letterari del pubblico, e li avviciniamo di nuovo alla lettura. Quando a un attore li propongono Pasolini o dice di no, perché è difficile, non tanto a legge perché è importante, o dici sì perché è un amore subito, forle, perché Pasolini è cinema, è immagine, è poesia, io chiamo l'intellettuale guerriero, cioè non quello che sta a poltrire, ma quello che combatte con le parole. Leggere cambia tutto e l'idea al centro del festival, la città dei lettori, che si terrà dal 7 al 9 giugno a Villa Barbini, a Firenze.